è stata una cosa bella perché all'inizio ovviamente è un po' impattante perché tu dici non conosco questa persona, non so come possa essere vivere come una persona non solo che non conosci bene ma che devi trattare in maniera diversa perché ha avuto delle difficoltà nella vita, non è molto integrato nella società e quindi ci facevamo tutti questi problemi, poi quando l'abbiamo conosciuto abbiamo visto che comunque potevamo confrontarci con lui e noi abbiamo cercato questo di metterlo nella condizione tale di poter cambiare, quindi non solo dare ma volevamo avere, ottenere da lui delle risposte, dei cambiamenti, quindi non è solo un aiuto che cerchiamo di dare noi a lui ma è anche un aiuto che lui dà a noi, parlo al crurale perché siamo io e mio fratello, ovviamente nella nostra unionazza, non è che abbiamo studiato filosofia, abbiamo studiato sociologia e quindi però abbiamo capito che era la strada giusta insomma. All'inizio è stato un po' difficile per ambientarmi anche a vivere con qualcuno, ero stavo sempre da solo prima, ero arrivato a un punto con le sostanze, col bere, ero arrivato a un punto che non mi interessava più del domani, loro mi hanno aiutato molto e posso contare su di loro. Così come io sono disponibile per lui quando mi deve chiedere delle cose, mi deve chiedere dei consigli, anche lui è disponibile per me quando io stacco dal lavoro, dallo studio e è lì per versi un bicchiere di birra, andare a prendere un aperitivo, lui è contento perché io queste cose non le ho mai fatte nella mia vita, il fatto di stare in un gruppo, in centro, avere un aperitivo con delle ragazze e in qualche modo anche io mi sento contento perché riesco a metterlo nei rapporti sociali normali nella vita. Io mi fratello lo consideriamo come un amico, quindi sai che magari lui non sarà in grado di darti dei consigli, però è in grado di ascoltarti, è in grado di farti compagnia, è in grado di fare delle battute, di ridere con te. Cuciniamo? Guardiamo i film dell'orrore? No, raramente vado in palestra, ma raramente. Penso che anche noi siamo un punto di riferimento per lui, quindi di conseguenza anche lui diventa un punto di riferimento per noi, per questo dico che è bella la condivenza va avanti, perché adesso se questo progetto dovesse finire, io sinceramente ne sentirei il colpo, cioè sentirei la sua assenza in casa. Grazie a tutti.